E lei o non è lei? Silvia Baldo la nostra piga. Già lo sapevamo. Fatta questa premessa e con tutte le difficoltà di mettere in piedi un dialogo decente, le nostre fanciulle parleranno un po' di emancipazione femminile e di parità di diritti, essere uguali agli uomini in tutto e per tutto. Reclamano giustamente i loro spazi e come dice Marina, ci piace anche giocare. Quindi basta con la storia del principe azzurro e la favola del rapporto serio e duraturo, adesso vanno di moda i mordi e fuggi. Anzi la dolce Marina ci fa sapere che questo tipo di rapporti sta si popolando. Già, i tempi cambiano, anche se questi sono discorsi che le nostre nonne farebbero davvero tanta fatica a comprendere. Possiamo immaginare la loro reazione se sentissero parlare così una ragazza. Altra educazione, altra mentalità. A questo punto la silenziosa Silviuccia prende la parola perché vuole comunque sottolineare che per noi donne è davvero fondamentale. Insomma, alla dolce Silviuccia frega niente del parere della gente. Perché poi la cosa più importante è sentirci bene con noi stessi. E fin qui possiamo anche essere tutti d'accordo, se non fosse per il fatto che la baldo amassi divertirsi ma anche prendere in giro i suoi spasimanti. Abruzzicona! Ed infatti la furbacchiona non contenta si vanta anche di conoscere e di usare tutta una serie di... Prendere questi piccoli trucchetti. La conversazione va avanti e la dolce ma perfida Silviuccia racconta tutte le sue avventure passate. Questo poi è il periodo dell'anno che quasi si presta ad avere un determinato tipo di rapporti, nel senso che conosci qualcuno, ti fai qualche giretto e poi chi s'è visto s'è visto. Non a caso Silviuccia raccomanda alle amiche a casa di non prendere mai la cosa troppo sul serio, ma anzi è meglio frequentare qualcuno da... Te lo sfrutti per tutta l'estate. E questo poi è un atteggiamento comune a tante VIP, che infatti si divertono a far strage di uomini. La stessa Silvia ammette che soprattutto nel mondo della musica le... Le cantanti, loro che proprio lo usano, lo strausano. Marina è visibilmente affascinata dai racconti di Silviuccia al punto da ammettere che... Ma come lei, anche noi, quando decidiamo magari di provare, di divertirci... Più le ascolto e più mi suonano nella testa le note della canzone della grande Cindy Looper, artista trasgressiva degli anni Ottanta che appunto cantava che le ragazze vogliono solo divertirsi. E quindi Marina ammette... Proprio vederti all'opera perché insomma è spizioso. Insomma non sono ragazze... Da matrimonio! Da matrimonio! Giocare coi sentimenti è una cosa brutta. E Marina alla fine fa della sana autocritica. Andiamo un attimino in... Vaffanculo va! Ragazzuoli belli anche questo video è finito. E spero vi sia piaciuto. Grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento.